E poi c'è un altro modo per trascorrere il Ferragosto in Molise, movimentato, addirittura avventuroso, a bordo di un gommone, facendo rafting, discendendo il fiume Volturno. La tradizionale scampagnata di Ferragosto no, è meglio discendere il fiume su un gommone. Giustissimo, è la prima volta che lo facciamo. Siamo tutti di Manopello, ci siamo venuti dall'Abruzzo qua. Quali sono le emozioni? Per ora stiamo un po' nel panico. Ma è una buona opportunità per fare qualcosa di diverso e sicuramente divertente, poi ci intratteniamo in zona per passare la giornata insieme. È un'esperienza nuova da provare per la prima volta, poi chissà, se ci piace la rifaremo di più. Qualche timore? Forse le ragazze, un po' sì, noi ragazzi speriamo di caparci la mente. E mentre i più coraggiosi si danno al rafting, lì vicino un'area attrezzata, un vero e proprio campeggio, traboccante di profumi, quelli del barbecue, e di vita, intorno a noi, visitatori quasi tutti giovani, alle prese con tutta una serie di attività, tra pallavolo, ping pong e faccende un po' più rilassanti a riposare sdraiati su una maca. Un bel modo per trascorrere un ferragosto diverso. Non solo rafting, infatti ci sono un sacco di attività divertenti da fare, soprattutto con gli amici, c'è il campo da pallavolo, il ping pong, si beve. E da questa suggestiva location, anche da noi, buon ferragosto a tutti!